Buongiorno a tutti, oggi presentiamo il pacchetto Summer Detox che comprende un peeling per tutto il corpo e un vendaggio drenante. Il peeling elimina le cellule morte, ossigena ed è pura la pelle. Il peeling è seguito da un massaggio di tutto il corpo con un olio nutriente. Il secondo trattamento è un vendaggio per contrastare le gambe gonfie e favorire il drenaggio. Viene avvolta tutta la parte inferiore del corpo e durante la posa effettuiamo delle manovre drenanti. Una volta tolto il vendaggio terminiamo con un massaggio drenante alle gambe. Il pacchetto perfetto per una pelle detossinata è pronta a prendere il sole. Vi ricordo che per essere aggiornati su tutte le nostre novità vi invito a seguirci sul nostro sito e social.